Antonio Calogero Montante, detto Antonello, ha cercato di negare tutto ciò che ha potuto, ma qualcuno degli indagati arrestati insieme a lui ha ammesso le responsabilità. Per gli inquirenti questa crepa nel suo cerchio magico promette nuovi sviluppi e alla fine potrebbe indurre lo stesso imprenditore di Serra di Falco a mettere in atto il suo proposito svelato da un'intercettazione di due anni fa, se cado io non salverò nessuno. A parlare per il momento è Marco De Angelis, commissario di polizia, colpevole di avere eseguito e fatto eseguire centinaia di accessi abusivi al sistema informatico per spiare il magistrato marino e tanti altri nemici di Montante da ridurre all'obbedienza con il ricatto e l'intimidazione, o persone da corrompere, influenzare, piegare al proprio disegno di collusione, affari e potere. Montante ha usato l'impossibile come sostenere di avere fatto aspettare i poliziotti alla porta per oltre un'ora lunedì della scorsa settimana alle 5 del mattino, quando sono andati ad arrestarlo a Milano perché credeva che fossero mafiosi che volevano ucciderlo. E però in quel tempo per lui prezioso si è disfatto di alcuni pendrive che il vicino di casa ha trovato nel balcone. Così come nel suo bunker in Sicilia è stata asportata gran parte dell'archivio segreto cui adesso gli investigatori stanno dando la caccia. E intanto Montante in arresto rimane alla guida della Camera di Commercio di Caltanissetta. La regione sostiene di non poter far nulla. Dovrebbero muoversi le realtà produttive territoriali associate all'ente camerale. Ancora prima però potrebbe dimettersi egli stesso, cosa alla quale finora non ha pensato. Per il momento ci si può accontentare dell'autosospensione, quindi non un provvedimento ma appena un gesto personale di opportunità di Giuseppe Catanzaro dal vertice di Confindustria Sicilia, dove il re delle discariche indagato era Longamanus di Montante. Grazie a tutti.